scatouche ciao a tutti ragazzoli bentornati qui sulla off bergman se avete visto l'ultima puntata sapete perché ci ritroviamo qua perché scatouche si trova qui ragazzuoli il camion è arrivato mi hanno avvertito io sto uscendo ora dalla casa di mike ho passato un giorno abbiamo riposato per bene ok eccolo qua è arrivato direttamente dalla mappa Italia ragazzuoli dall'Italia allora mike è a casa a farsi le sue cose noi ci occupiamo un attimino qui qui è arrivato il nostro mezzo stupendo allora direi che possiamo anche tirarlo giù ok l'abbiamo messo giù ragazzuoli allora praticamente vi spiego abbiamo ricevuto i fondi dalla Germania per i nuovi agricoltori e allevatori ragazzi quindi ottimo perfetto scatouche si è già portato avanti con questo i mezzi alla fine gli abbiamo fatto portare via tutto a quel ragazzo al vecchio proprietario gli abbiamo semplicemente chiesto di lasciarci come si può dire di lasciarci questo e altri macchinari che possono tornarci utile dovevamo solamente firmare l'accordo e ne approfitto per farvi vedere una modd della global company per un attimino che la apriamo la modd della global company dove potete vedere qua si può affittare i campi qui ci sono i feed e qua lo stato noi se vogliamo il campo 5 possiamo acquistare o affittare oppure dissolvere i lease una volta affittato lo possiamo rimuovere ci tocca da fare acquistare tutta la fattoria qui ragazzuoli dobbiamo affittarla per questo noi adesso faremo questa operazione simuliamo che salviamo più che salviamo che firmiamo il contratto e lo compriamo per la somma di quasi 400.000 euro i soldi sono andati a farsi benedire abbiamo acquistato tutto quanto ci servono i mezzi vediamo qui sulla destra cosa che ci ha lasciato un paio di carrelli ha portato via trebbie si ha portato via tutto perché non ci siamo messi d'accordo sul prezzo ragazzuoli il prezzo non gli conveniva e non conveniva a noi e allora abbiamo lasciato andare porto tutto questo qua allo shop e vediamo di acquistare qualcosina di carino ok ragazzuoli siamo arrivati e lo shop ha aperto proprio ora ora ok adesso bisognerà acquistare trebbie ah più che trebbie le trebbie le possiamo acquistare quando sarà per adesso dato che dobbiamo prendere le mucche ci dobbiamo concentrare un pochettino sulla produzione di mucche perché se no non abbiamo modo di sopportare la produzione di mike quindi bisogna un attimino concentrarsi sulle mucche quanto riguarda animali allora noi cosa sappiamo sappiamo che le mucche qui su questa mappa vengono gestite in modo un po' diverse allora mi sembra un po' stupido aver portato questo macchinario qui adesso perché in realtà non ci serve granché ora a meno che non andiamo ad acquistare una falciatrice per fare erba e fieno allora ragazzuoli vado ad acquistare il merlo ovviamente raga compro cose usate infatti usato perfetto configurazione mettiamo con l'aggancio posteriore la marca ci sono le nokia no? ok ok ragazzuoli merlo acquistato acquistiamo anche la la pinza ovviamente del ok ragazzuoli merlo preso adesso lo mettiamo sul mezzo se poi ci dovesse servire qualcos'altro vorremmo da acquistare però questo qua diciamo che è una delle prime cose che volevo prendere almeno si possiamo sistemarci un po' di più forse giusto da evitare di cadere di sotto ok allora merlo acquistato guardate che spettacolo altra cosa da acquistare allora il carrellino ce l'abbiamo la paglia ce l'abbiamo ci andrebbe una bella pinza per sollevare come si chiama per sollevare le balle quella ci manca e a sto punto eccola qua la prendiamo usata anche questa così almeno dov'è è qua perfetto dopo la carichiamo ci manca nient'altro non penso proprio per attivare la produzione di maiali e vabbè ovviamente raga ci servono i trattori perché non possiamo andare avanti col camion quindi innanzitutto un bel trattore io prenderei un bel trattore piccolino e attualmente sono tutti quanti standard e però 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 il JCB ci potrebbe stare qui abbiamo il Fend che è quello che vorrei comprare ma se compriamo lui non abbiamo più soldi per far niente quindi trattore piccolino trattore piccolino andiamo tranquilli su un medio ok andiamo sul medio e prendiamo questo Fend qua perché ci viene comodo utilizzarlo si 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 ok ragazzoli eccolo qua dite che ci sta se metto la pala qua sopra aspettiamo un attimo ok e anche questo qua l'abbiamo preso nel negozio già usato ci tornerà molto utile con le mucche ok così che si danno un bacino tutti gli agganci a incastro perfetto questo qua lo facciamo tirare su e niente ragazzoli andiamo in farm per il momento va più che bene dai fiattino dai dai fiattino spigni spigni troppo peso ragazzi troppo peso ragazzoni passiamo da qua che ci evitiamo un sacco di problemi scarichiamo direttamente qua ops ops ecco ho rigato anche il camion e vabbè e vabbè sono errori che succedono sono cose che succedono allora procediamo con lo scarico del del nostro mezzo al momento parcheggiamo qua vicino al 180 che male non ci fa il merlo lo portiamo direttamente già lì dalle mucche che penso lo useremo di più lì incredibile come per sfortuna non ci siamo messi d'accordo con quel con quel signore vecchio proprietario e allora questo qua lo piazziamo qua e poi vediamo un attimino come usarlo quando usarlo e ragazzoli sistemo i mezzi che sono arrivati qui dentro e poi vedrò un attimino parlando un pochettino con Mike mi faccio aiutare o meglio suggerire un pochettino qui per la zona dove acquistare come acquistare perché non ne ho proprio ben idea non ho ben capito quale varietà di mucche mi consiglia che quello del pastore ha venduto tutto se ne è fregato altamente e quindi siamo un po' così siamo via qui dentro cosa c'è ah c'è un pollaio qui perfetto qua qua una porta e qua una cantina buono perfetto 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 la cantina ci piace ci piace la cantina ok siamo usciti dalla cantina c'erano altre due cose che volevamo acquistare però penso che il tempo sia volato e quindi niente ragazzuoli ci vediamo nella prossima puntata io spero che Mike possa esserci qua qua cosa c'è qua cosa c'è ah dei depositi ok ok bello ci piace io spero che Mike ci possa essere così per darci una mano a gestire un po' tutto quanto e niente ragazzuoli lasciate un mi piace gruppo telegram se volete sapere qualche informazione su mod e tutto quanto gruppo discord mondo game ve lo lascio qui sotto in descrizione per trovare la mappa la traduzione della mappa c'è il canale offbergman su quel server e niente ragazzuoli noi ci vediamo nella prossima puntata qui sull'offbergman finiremo con gli acquisti e ci vediamo belli ciao